Di fronte a questo tipo di sfida terroristica, di uberizzazione del terrorismo, bisogna prendere provvedimenti che consentano di filtrare prima. Io mi riconosco in quello che dicono gli esponenti del Front National che io considero, quando sono in Francia parlo attraverso le loro parole. Ha dato delle indicazioni molto precise, ha detto che bisogna adottare le espulsioni immediate, bisogna adottare provvedimenti seri sulle identificazioni e ovviamente muscler tutte quelle misure atte a prevenire che evidentemente il lassismo che in Italia è ancora maggiore poi lascia delle faglie aperte. Perché c'è stato questo tentato? Da dove arriva? Io spero che abbia svegliato chi ha troppo dormito. Sì, però lei sa benissimo che c'è stato un ordine preciso del califato di colpire persino con le macchine e quindi i matti nel mondo ce ne sono. Io da molto tempo preciso sempre questo, un colto è Lisa, un colto è l'uso politico degli estremisti islamisti criminali, delinquenti, bastardi, due cose molto diverse. Però qui siamo di fronte al fatto che può succedere anche dove lei va a prendere il gelato con la sua famiglia. Qui siamo a pochi chilometri all'Italia, è preoccupato per il nostro paese? Stanno arrivando anche nel nostro paese? Ma certamente, se uno passa il mercoledì quando Papa Francesco parla davanti a 50-60 mila persone, mi dicevano poliziotte e carvenie, non è che possiamo aprire tutte le borse, anche perché poi non ci sono barrage, non ci sono… e quindi o quando qualcuno dice messa o quando magari un partito fa un grande meeting o quando c'è la fiera del libro, speriamo di no. Io penso prima di tutto fare una polizia di tutti i ghetti urbani pieni di islamici fuori controllo, mettere rimedio all'idiozia di aver fatto entrare decine, forse centinaia di migliaia di cosiddetti immigrati sbarcati in qualche maniera senza controllarli e chiudere tassativamente e impedire all'era apertura di tutte le mosche che sono foriere finanziate e pensate e gestite per alimentare nel musulmano istinti omicidi e di odio verso di noi. Grazie